Il maltempo sta interessando anche l'Abruzzo ma fortunatamente i danni sono di poca rilevanza. Abbiamo diversi interventi che stanno portando avanti i nostri Vigili del Fuoco. Ovviamente le squadre di volontariato di protezione civile stanno affiancando loro e i sindaci per quanto riguarda gli interventi più importanti. Abbiamo ovviamente molti alberi e rami sulle strade che si stanno provvedendo a togliere. Ci sono alcune situazioni di tetti scoperchiati. Ovviamente il maltempo si sta facendo sentire in maniera inferiore rispetto ad altre zone d'Italia in Abruzzo. La raccomandazione è che le persone debbono essere messe in sicurezza. Quindi non frequentare i parchi, non frequentare i cimiteri in questo momento che sono ovviamente oggetto anche di crolli di alberi e essere veramente molto accorti. Ci sarà un peggioramento anche domenica prossima con una situazione simile a quella che stiamo vivendo in queste ore per cui ancora di più, mi raccomando, la massima cautela.